Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Negli ultimi giorni la conoscenza aumenterà. Conoscerai la verità. E la verità ti farà libero. Un programma creato per formare discepoli. Bene, bene. Buonasera a tutti e a tutti i nostri amici della TBN, TCI, televisione cristiana italiana. E in questa puntata che stiamo registrando ci sono anche tutti i nostri amici di Facebook qui presenti. Per tutti quelli che vogliono seguirci per Facebook potete andare su FM Martin Cadì. E per quelli che vogliono fare la scuola di formazione per aprire scuole bibliche in casa e aprire anche Spandere il Regno di Dio per mezzo di Cassa Tua potete andare su uomodipace.it scaricare la brochure e avere tutta l'informazione. Noi faremo un corso di tre mesi per formarvi e poi vi seguiremo in un percorso per poter aprire una scuola biblica a Cassa Tua. Comunque tornando a noi e salutando tutti gli amici di Facebook per quelli che ci seguono. Qui abbiamo il nostro caro James, diamo il primo piano solo di James. Come vedete, eccolo lì, vedete che c'è un po' di movimento. Ha trasformato tutta la cassa, come vedete, in un studio. In passato andavamo lì a Marnate dove c'è la TBN, ma adesso ci conviene più pratico, visto che abitiamo in Sardegna, far venire il tecnico piuttosto che spostarci tutti noi di là. Torniamo noi, andiamo avanti noi, abbiamo anche delle ospiti qui nel studio in questa sera e diventiamo seri, diventiamo seri perché abbiamo bisogno di proseguire con lo studio come vivere per fede. Il giusto per fede vivrà. E la prima cosa che tu devi comprendere per vivere per fede è che tu sei giustificato per fede, che grazie al sangue di Cristo noi siamo giusti. Il fatto che tu hai la rivelazione che sei giusto, ti permette di entrare con libertà di fronte al trono della grazia e attingere l'amore di Dio. Quando tu attingi l'amore di Dio, è l'amore di Dio che ti spinge a guardare tutti i comandamenti. Perché Gesù Cristo ha detto che tutta la Bibbia viene rinchiusa in due comandamenti. Ama Dio e ama il tuo prossimo come te stesso. Una volta meditando e parlando con Gesù, lui mi ha parlato al cuore e mi ha fatto una domanda. Stessa domanda che ti pongo io a te. Ma tu, come ti ami? Punto di domanda. Non se ti ami, perché in qualche modo noi ci amiamo, no? La domanda è, come ti ami? Ho sentito questa voce che sussurrava al mio cuore e mi dice, come ti ami tu? Perché se non ti ami, in primo luogo, come fai ad amare al prossimo? Molto vogliamo rinchiudere ama Dio, punto. Perché? Perché a volte amare al prossimo è dura. Ma se tu veramente ama Dio, mi ami Pietro, cosa devi fare? Pasci le mie pecore, cioè dimostralo con il prossimo. No, questa non mi è piaciuta. Con quello che non sopporto? Sì. Con quello lì, con quel datore di lavoro che è un isterico? Sì, con lui. Con quell'impiegato che è un pigro, non fa niente? Sì, con lui. Con mio marito? Sì, con lui. Con mia suocera? No, con la suocera no. Ma comunque... Anche con la suocera, soprattutto con la suocera. Ma tornando a noi... Scusate, ho questi lapsus che... Mia moglie in questo momento si trova in Germania, è andato a aiutare a sua mamma, cioè mia suocera, perché sta risistemando tutta la cassa e noi, avendo qui degli impegni, io sono rimasto, avevo una conferenza in Mongolia che a ultimo momento è saltato e ho dovuto rimanere qui. Comunque, sto vicino con il sentimento e nello spirito. Preghiamo per mia moglie, che torni presto. Bene, allora, tornando a noi... James, mi smetti di distrarre, per favore? Possiamo concentrarci in questo studio? Ok. Allora, stavamo dicendo che la prima cosa che noi dobbiamo capire per poter vivere per fede è che il giusto per fede vivrà. La rivelazione della giustizia di Dio è la più importante... una delle prime rivelazioni che noi dobbiamo avere se vogliamo vivere per fede, perché il giusto per fede vivrà. Ed è quello che abbiamo visto nelle puntate precedenti. Ma tornando a noi, andiamo a Romani capitolo 4, versetto 8, che dice «Beato l'uomo al quale il Signore non ha debita affatto il peccato». Nota che non ha debita affatto. La cosa fenomenale di questo passo è che è scritto da Davide, che lui ne aveva esperienza riguardo a combinarne di tutti i colori, e lui dice «Beato l'uomo al quale il Signore non ha debita affatto il peccato». E questo versetto è Paolo che scrive, o lo Spirito Santo per mezzo di Paolo, che accena la benedizione che c'è l'uomo quando non viene ad evitato il peccato. Per quello in Galati lo stesso Paolo, o lo Spirito Santo per mezzo di Paolo, accena che Cristo ci ha redento della maledizione della legge, cioè la legge che produce il peccato, non che ci ha tolto il peccato della carne. Perché a motivo di Adamo e Deva il peccato è venuto a abitare nella carne. Paolo dice «Se io faccio quello che non voglio, Romani capitolo 7, non sono io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me». Vuol dire che nella nostra carne abita il peccato. E questo peccato rimarrà lì fino alla morte. Non è che perché tu ricevi lo Spirito Santo, Dio toglie il peccato della carne. Ma quando tu ricevi Cristo, tu ricevi lo Spirito Santo e lo Spirito Santo viene a abitare dentro il tuo spirito. Allora tu trovi l'anima che ha uno spirito che ha presso a vita, perché lo Spirito Santo è venuto a abitare nel tuo spirito, e dall'altro lato tu hai la carne con il peccato che abita dentro, dall'inizio della creazione. Perché quello che ha fatto sì che il peccato venisse a abitare nella carne è stata l'azione di Adamo di credere alla bugia del diavolo. Tu oggi ricevi lo Spirito Santo che viene a abitare nel tuo spirito perché tu credi la predicazione della fede. Così come la predicazione della fede permette allo Spirito Santo di venire a abitare nel tuo spirito, così il credere alla bugia del diavolo ha fatto sì che il peccato per mezzo della menzogna venisse a abitare nella nostra carne. E tramite il peccato il diavolo può trasmettere i suoi sentimenti. Così come lo Spirito Santo che abita nel nostro spirito può trasmettere i suoi sentimenti, allo stesso modo il diavolo tramite il peccato può trasmettere i suoi sentimenti. Ma sia lo Spirito Santo che i demoni lo trasmettono sempre in prima persona. Esempio, appena tu hai ricevuto Gesù Cristo hai avuto un grande amore, hai sentito questa ondata di amore che ha soprafatto la ragione, questo amore che ti spingeva a pregare, andare in chiesa, a leggere la Bibbia, a amare quello che era impossibile di amare, a perdonare gli altri. Non erano i tuoi sentimenti, erano i sentimenti di Dio in prima persona. Perché prima di ricevere il Cristo questi sentimenti non li avevi. Ora, con i sentimenti del diavolo molti di noi ci siamo nati, perché molto lo abbiamo ricevuto nell'infanzia. E ora, tutti questi sentimenti del diavolo una volta che tu sei liberato non ci sono più. Ma comunque c'è il peccato nella carne. E i dardi infuocati sono sempre pensieri in prima persona, fondati in quanto alle fortezze mentali che abbiamo, che ti spingono a fare quello che va contro la volontà del diavolo. Per quello, quando io mi carico spiritualmente, la carne è debole, lo Spirito è sempre pronto. Se io, come stavo dicendo l'altro giorno, questa è bella, stavo spiegando l'altro giorno che perché lo Spirito Santo possa benedire tutto nella tua vita, hai bisogno di essere spirituale per tre mesi. Lo dice la Bibbia. L'arca di Obededon, che era dove dimorava lo Spirito Santo, che rappresenta un po' il nostro spirito quando siamo nati di nuovo. L'arca del patto arriva a casa di Obededon e arrivando a casa di Obededon in tre mesi benedice tutto quello che possedeva. Tutto! Tre mesi! Vuol dire che se tu rimani spirituale per tre mesi, Dio benedirà l'opera delle tue mani e tutto quello che è intorno a te come conseguenza. Perché Dio è lo stesso ieri, oggi e per sempre. La domanda che ti deve porre è come io faccio a essere spirituale per tre mesi? La Bibbia dice in Romani capitolo 8, versetto 5 quelli che volgono la mente alle cose dello Spirito sono gli spirituali. Quelli che volgono la mente alle cose terrene sono i carnali. Se io voglio vivere per fede devo per forza avvolgere il pensiero alle cose dello Spirito. Se io volgo la mente alle cose dello Spirito è come avere l'arca nella casa di Obededon. Lo Spirito Santo può trasmettere la benedizione perché Cristo c'è al redento della maledizione della legge diventando lui maledizione affinché la benedizione di Abramo venisse su di noi e ricevessimo lo Spirito promesso per mezzo della fede. Ora nota che la benedizione di Abramo è su di me quando io sono spirituale. Cioè io volgo il pensiero alle cose dello Spirito e si attivano le benedizioni che si ripercuotono nel mondo fisico. Tre mesi tenendo il pensiero alle cose dello Spirito. Sembra facile? Se fosse facile. Ora perché è facile? Perché siamo nel mondo! Viviamo nel mondo! Ora il diavolo ci vuole solo un mese. Un mese senza farti pregare per darti di quelle stangate che sono una maraviglia. Guarda, un mese. Da dove la prendi questa nella Bibbia? Te lo spiego. Mi ha fatto piacere che hai fatto la domanda. Un po' con un tono polemico, ma comunque ti rispondo. Qualcuno mi ha detto pastore tu hai problemi di doppia identità. Non è vero, stai zitto. Allora, tornando a noi la Bibbia dice che per cercare di buttare giù Daniele i satrapi e tutti quei saggi che erano intorno al re a motivo dell'envidia si uniscono per buttare giù Daniele e dicono se noi cercano prima qualcosa riguardo alle leggi del mondo non trovando noi dicono se non troviamo qualcosa riguardo alle leggi del suo Dio non possiamo buttarlo giù. E ora obbligano il re a chiedere questo editto che chiunque pregasse un altro dio oltre il re doveva essere lanciato nelle fosse del leone. E ora lui cosa fa? Apre la finestra e comincia a pregare come al solito dice la Bibbia. vuol dire che forse aveva trascurato un po' il tempo di preghiera. Ma l'editto diceva che per un mese se qualcuno pregava un altro dio per un mese doveva essere lanciato alla fossa con i leoni. Interessante un mese Satana sa che se tu non preghi per un mese che se tu sei carnale per un mese lui poteva rovinare la vita di una nazione perché Daniele era il secondo dopo il re e le scelte che venivano fatte erano anche ispirate da Daniele. Per quello Satana sapeva che per poter buttare giù una nazione doveva far sì che l'uomo spirituale di quella nazione abbassasse le difese per un mese. In tre mesi Dio può venire tutto alla tua casa. Se tu divieni spirituale cioè se tu riesci a mantenere il pensiero nelle cose dello spirito se qualcuno vuole che spieghi meglio questo concetto cioè in poche parole se per tre mesi tu ti consacri a dedicare tempo alla preghiera alla parola a volgere il pensiero alle cose dello spirito cioè disciplinarti a dire no no senti guardare il telegiornale non devi essere un estremista ma ti posso garantire che quello non aiuta molto a mantenere il pensiero alle cose dello spirito. La spiritualità viene determinata quando io guardo la tempesta e non affondo. Ripeto se Pietro fosse stato spirituale voltando il pensiero alla tempesta non affondava ma come lui ancora era in un processo di crescita finché aveva il pensiero in Cristo camminava sulle acque la benedizione si attivava ma quando lui ha tolto il pensiero lui ha affondato. Abramo il padre della fede disse vedendo sua moglie che era sterile lui è che era vecchio non viene a meno nella fede ma si fortificò nelle promesse ora vedi lui è riuscito a vedere la tempesta senza affondare allora ecco quando tu sei spirituale quando arrivano le volette tu li guardi e non vieni a meno se no che ti fortifichi ecco quello che fa la differenza ecco quello che vuol dire spirituale ed ecco quello che permette a Dio di benedire le opere delle tue mani perché lo spirito che abita nel tuo spirito può fluire per mezzo di te attraverso il pensiero perché il pensiero è la porta che ti porta alla spiritualità o alla carnalità se io volgo il pensiero alle cose terrene sono un carnale se io volgo le cose alle cose dello spirito sono spirituali tre mesi con il pensiero alle cose dello spirito ci vuole maturità ovviamente e Dio benedirà unico sanato vita un mese un mese senza pregare e aprire la Bibbia e vedi come te li suona il diavolo ti concia per le feste anche se sconfitto perché? perché lo spirito santo che abita nel tuo spirito non può prevalere e allora il diavolo per mezzo del peccato che abita nella carne ha la meglio fai le scelte sbagliate hai i risultati sbagliati ha senso? allora stavamo dicendo Romani capitolo 4 versetto 8 beato l'uomo al quale il Signore non ha debita ha fatto il peccato questa beatitudine è soltanto per i circoncisi o anche per gli incirconcisi infatti diciamo che la fede fu messa in conto ad Abramo come giustizia in quale circostanza dunque li fu messa in conto? quando era circonciso o quando era incirconciso? no quando era circonciso ma quando non quando era circonciso ma quando era incirconciso poi ricevete il segno della circoncisione quale sigillo della giustizia ottenuta per la fede che aveva quando era incirconciso affinché fosse padre di tutti gli incirconcisi che credono in modo che anche a loro fosse messa in conto la giustizia e fosse padre anche dei circoncisi di quelli che non solo sono circoncisi ma seguono anche le orme della fede del nostro padre Abramo quando era ancora incirconciso ora oltre al fatto di sottolineare che Dio ci ha lasciato Abramo come padre della fede affinché noi seguiamo le sue orme ma non solo a noi anche quelli della circoncisione la circoncisione è il segno che Dio dà a Abramo per far sì che tutti quelli che nascevano diventassero popolo di Dio tagliando il pripuzio dei bambini dei maschi la circoncisione determinava che loro fossero separati per Dio come popolo era un segno fisico oggi la circoncisione è quella del cuore cioè è spirituale è dentro non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me vuol dire che io la mia vita è stata circoncissa in Cristo vuol dire che c'è una parte carnale separata ma è una scelta mia è una decisione di fare ogni giorno da portare alla nostra croce in questo caso notate che a lui viene messa in conto la fede come giustizia ma questo passo che a lui gli viene messa in conto la fede come giustizia è prima della circoncisione per quello lui è l'esempio per noi gentili non circoncissi in atti capitolo 15 se non mi sbaglio si radunano tutti insieme per determinare se i gentili dovevano essere circoncissi o no cioè se dovevano guardare la legge di Mosè tra le quali uno per diventare popolo di Dio dovevano tutti circoncidarsi e ora si radunano a Gerusalemme e dicono cosa dobbiamo 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 circoncidere ai 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 gentili o no e tutti fuori mio Dio Signore aiutaci soprattutto i maschi ma comunque arrivano alla conclusione quando sentono Pietro che comincia a parlare della conversione di Cornelio poi quando c'è Paolo che parla dei miracoli che Dio ha fatto per mezzo delle sue mani e poi Giacomo che comincia a citare passi della Bibbia riguardo a quello che è il tavernacolo di Davide che sarebbe stato ristaurato e dopo ha finito queste tre testimonianze Pietro Paolo Pietro Apostolo di Israele per Israele Paolo Apostolo per gli stranieri e Giacomo una volta finita questa conclusione in accordo parlano mandano questa lettera dicendo è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi niente altro che astenervi da l'idolatria e la fornicazione due cose soltanto l'idolatria e la fornicazione che è il contrario di ama Dio ama il prossimo come te stesso il comandamento di ama Dio Satana ti offre l'idolatria che l'idolatria non è solo un idolo può essere una persona può essere un figlio può essere il lavoro mamona ecco l'idolatria l'idolatria maggiore non puoi amare Dio e mamona e in quanto ama il prossimo come te stesso la fornicazione sono i due comandamenti che il diavolo vuole mettere per contrabattere ama Dio e ama il prossimo come te stesso cioè l'idolatria e la fornicazione ha senso che viene chiamato far l'amore no non è far l'amore si chiama fornicazione e ti stai cucando un sacco di demoni si può sistemare certo bravediti chiedi perdono e chiudi la porta hai bisogno di un'amministrazione hai bisogno di chiudere quelle porte ogni volta che tu vai a letto con una persona al di fuori del matrimonio tu stai aprendo delle porte al diavolo tu stai aprendo delle porte al diavolo la via dice che chi commette fornicazione pecca contra se stesso così come ci sono malattie che vengono trasmesse per mezzo della fornicazione come l'AIDS la sifile eccetera eccetera tante malattie che uno può ricevere nel mondo fisico così ci sono trasmissioni di demoni per mezzo di rapporti sessuali per quello quando Dio ti dice un qualcosa non è proibitivo è protettivo e non perché sei nella grazia non ti cucchi un sacco di demoni perché ci sono predicatori che vanno in giro dicendo che perché siamo nella grazia non c'è più condana senti se tu sei un predicatore e stai predicando tutte quelle porcherie stai attento perché il giudizio comincia nella cassa di Dio stai attento perché il giudizio dice la Bibbia comincia nella cassa di Dio e se tu sei cieco stai attento con i ciechi che ti seguono perché se tu sei un cieco che segue un cieco se il cieco cade nella fossa anche le altre ciechi cadranno nella fossa per quello stai molto attento a chi segui sii saggio non lasciarti andare delle emozioni utilizza la ragione tornando a noi notate come lui le viene messa in conto come giustizia prima la circoncisione affinché lui diventasse padre della nostra fede se noi vogliamo imparare a vivere per fede dobbiamo studiare la vita di Abramo dobbiamo per forza studiare la vita di Abramo perché lui è il padre e il punto di riferimento ora voglio sottolineare che ci sono cose che ha fatto Abramo che noi non dobbiamo copiare che non tutto quello che ha fatto Abramo è quello che noi dobbiamo fare perché quando si trova con il faraone lui guarda sua moglie che già era aveva già una certa età ma sai come dice il proverbio gallina gallina vecchia fa buon brodo ed era molto bella Sara anche se già era vecchia e a un certo punto lui cosa fa amore guarda io ti voglio amare come Cristo ha amato la chiesa se ti vogliono prendere ti difendo io stai tranquillo io per te do la vita no? le dice senti di che sei mia sorella non sia che mi facciano fuori perché tu sei bella ha la faccia di ama tua moglie è quello che lui è quello che lui dice avete letto quel passo? quello non è un passo di fede quel passo non dobbiamo seguirlo lui non era stato disposto e la cosa tremenda è che il figlio commette lo stesso sbaglio ma la cosa più tremenda ancora è che perché lui ha fatto questo Dio la pagna nei sogni del faraone e gli dice tu sei fritto tu sei morto a causa della donna che hai sposato lui mi ha detto che era sua sorella io l'ho fatto con integrità e lui gli dice io so che l'hai fatto con integrità e perché l'hai fatto con integrità non ti ho ucciso ma dalle indietro la moglie e lui mi dice cosa mi hai fatto? io ho paura che mi fate fuori e gli dà delle ricchezze lo riempiono di ricchezze mio Dio cioè vedi quanto grande l'amore di Dio per il suo popolo noi non ci rendiamo conto che anche se ne combini Dio e tu hai un buon cuore perché è stato mosso dalla paura e chi non si può trovare in una situazione di fare uno sbaglio del genere il problema è che lo ha trasmesso il suo figlio ma la cosa più tremenda ancora è che le è andata bene anche al figlio cioè sì ma meditiamo nel momento come pensi che lui si sentiva? come pensi è stata la fede di lei non la fede di lui perché per la sua fede della moglie Dio gli ha mandato l'accidente a tutta la casa del faraone ma come pensi che si sentiva a lei? a un certo punto Sara camminava senti sei troppo vela di che sei mia sorella eh? cioè tu mi vuoi dare a quello là perché hai paura di morire? pensi che se l'ha presa un po' Sara? ci è rimasto male Sara? perché queste cose la Bibbia non le dice ma sono cose che sono successe come si sentiva Sara in quel momento? eh? due volte le ho fatto due volte due volte due volte mio Dio come si sentiva io mi immagino mi immagino alla sera perché non è che è stato qualche giorno lì lui che non poteva sapere che cosa stava accadendo la sera quando era nella tenda immaginandosi oh mio Dio cosa stanno facendo mia moglie adesso perché io sono convinto che lui amava Sara pronto? allora comunque noi dobbiamo seguire i passi di fede di Abramo interessante che ci sono due eventi di fede che Abramo ha fatto e che sono parte della vita del giusto che noi dobbiamo fare e queste due cose uno è la decima due è l'adorazione la prima volta che appaia la parola adorazione è decima la trovi quando Abramo ha andato a sacrificare Isacco e dice io andrò io offrirò adorarò Dio adoreremo Dio e torneremo quando lui doveva offrire l'adorazione non è un canto l'adorazione si deve si deve proprio non c'è un passo nella via che dice che adorare cantare l'adorazione è una proclamazione ma viene affiancata generalmente alla offerta più che alla musica in due versetti viene affiancato alla musica sono due salmi credo che uno è il 66 che dice adorate e cantate li separa sono due cose separate adorazione è una dichiarazione e se lo devi affiancare a qualcosa visto che la prima volta che appaia nell'Antico Testamento con l'offerta di Isacco e nel Nuovo Testamento e con l'offerta dei maghi che vengono quando nasce Gesù Cristo allora diciamo adoriamo Dio non nel tempo della musica nel tempo dell'offerta se proprio lo vuoi attaccare collegare a qualcosa ma adorare vuol dire riconoscere Dio nelle tue vie l'adorazione è uno stile di vita è riconoscere Dio dove tu vai per quello per quello quando 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 lui il primo il primo passo di fede non è stato l'adorazione è stato quando lui ha recuperato nel versetto 14 di Genesi suo fratello Lot ma questo lo vediamo nella prossima puntata è un'unico Grazie a tutti.